Ma devo dire che i lavori stanno andando avanti bene, la ditta sta lavorando, ritorniamo al discorso delle difficoltà di riperimento del materiale, però si sta andando avanti sul doppio turno, quindi tutto secondo il cronoprogramma, la cosa importante qual è? Che noi una volta completati il progetto abbiamo deciso di puntare molto sull'efficientamento energetico, perché rispetto al progetto iniziale il mondo in qualche modo è cambiato, vista l'esperienza delle scuole di Via La Marmora, dove grazie agli interventi fatti abbiamo avuto riconoscimenti anche importanti che porteranno anche un notevole risparmio rispetto al consumo di energia. Sul Polassetto avevamo puntato molto su una riqualificazione energetica che in qualche modo ci ha fatto perdere un po' di tempo, però ci permetterà appunto di avere una struttura molto più funzionale rispetto al progetto originale. Abbiamo avuto l'ufficializzazione del finanziamento del GSE di 1.750.000, che peraltro avevamo previsto nel piano triennale delle opere, quindi siamo particolarmente orgogliosi e sicuri che una volta terminata avremo un impianto di primissimo livello. Anche in questo caso tempistiche quindi? Noi contiamo già per Natale di avere il palassetto parzialmente attivo e utilizzato e utilizzabile, poi piano piano andremo a sistemare anche i negozi, diciamo che per la primavera dovrebbe essere tutto a posto con il fiocco sopra. Il problema è sempre il solito in questo momento, la fornitura delle materie prime che fa diventare matti un po' tutti.